Benvenuti nel nostro viaggio attraverso le vicende intricate e affascinanti di Beautiful, dove Brooke Logan emerge come uno dei personaggi più complessi e intriganti. Conosciuta per il suo fascino e la sua vita amorosa sempre in primo piano, Brooke ha vissuto numerose relazioni e affari amorosi. Un capitolo drammatico nella vita di Brooke è stata la sua relazione con Deacon, da cui è nata una verità oscura. Brooke rimase incinta e diede alla luce una figlia di nome Hop. Tuttavia, la trama si complica ulteriormente con teorie che suggeriscono che Hop potrebbe non essere figlia di Deacon, ma di un altro uomo. La relazione tra Brooke e Ridge aggiunge ulteriori strati di complessità e confusione. Mentre i due vivevano un'appassionata storia d'amore, Brooke rimase incinta di Hop. Nonostante ciò, dubbi sulla vera origine di sua figlia attormentavano Brooke, che cercava di nascondere queste ansie e continuare la sua vita senza cambiamenti. Tuttavia, l'arrivo di Deacon come rivale amoroso risveglia preoccupazioni passate e lo scontro su chi sia il vero padre di Hop diventa inevitabile quando emergono questioni di gruppo sanguigno e incompatibilità. Brooke è costretta ad affrontare il suo passato, le decisioni prese e gli errori commessi. I dubbi sulla paternità di Hop la portano a confrontarsi con una sfida difficile. Nel mezzo di confusione e complicazioni, Brooke giunge alla conclusione che anche Eric potrebbe essere il padre di Hop. La somiglianza tra i tratti di Hop ed Eric e il fatto che tra Brooke ed Eric ci sia stata una relazione, aggiungono un ulteriore livello di complessità emotiva alla storia. Questa possibilità che Hop non sia figlia di Deacon rappresenta un punto di svolta cruciale nella vita di Brooke. La verità sul vero padre di Hop è un mistero che Brooke dovrà affrontare e risolvere in futuro. La curiosità e l'esplorazione continuano a spingere la narrazione di Brooke e del suo passato complicato verso nuove e inaspettate direzioni.